Salve amici di Cilento Channel e benvenuti al terzo appuntamento con la rubrica alimentazione e salute in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che oggi ci parlerà nel dettaglio di dieta mediterranea. La dieta mediterranea, più che un programma dietetico vero e proprio, possiamo considerare uno stile di vita, un insieme di abitudini alimentari che si sono tramandate nel corso dei secoli nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in particolare nel sud Italia. Il termine fu coniato da questo medico statunitense, Angel Kiss, che si accorse di come nelle popolazioni di questi paesi ci fosse una minore incidenza delle malattie cosiddette del benessere. Si parla tanto di dieta mediterranea, ricordiamo, perché sicuramente i nostri telespettatori avranno seguito programmi, consigli, però ricordiamolo, perché non fa mai male ricordarlo, quali sono i benefici della dieta mediterranea? La dieta mediterranea è l'unica che è stata riconosciuta scientificamente come in grado di prevenire alcune patologie, quali arteriosclerosi, infarto, obesità, hyperlipidemia e anche alcune forme di cancro. Nel dettaglio, quali sono gli alimenti base che bisognerebbe assumere giornalmente per trarre beneficio? Sì, sono quelli riassunti nella piramide alimentare, in cui alla base abbiamo gli alimenti come pane, pasta, riso, quindi tutti i carboidrati complessi e man mano che si sale sulla piramide troviamo il pesce azzurro, carni bianche, legumi, frutta secca e frutta fresca e poi all'apice della piramide gli alimenti da consumare più di rado, quindi carni grassi e dolciumi. A questo va aggiunto sicuramente una regolare attività fisica e anche magari, se non controindicato, uno o due bicchieri di vino per accompagnare i pasti. Bene, grazie dottore. Noi ci ritroveremo per un'altra rubrica la prossima settimana, sempre in compagnia del nostro dottore Andrea Ricci. Grazie e alla prossima.